Buongiorno a tutti, ricetta di Natale Iodrama, filetto di maiale, mele e miele. Partiamo subito velocissime. Scaldiamo la padella con burro e olio. Filetto di maiale, rosolare. Intanto ho già tagliato le patate a ronnelle e le miele. C'è il miele, pinocchio e paprika per le patate. Rosoliamo il filetto. Lo scottiamo, anche con un costello va benissimo. Facciamo rosolare bene, avvolto dalla pancetta, primo lato, secondo lato. Il filetto cuoccio in pochissimo, due minuti, tre minuti massimo. In frattempo mettiamo vicino una padella, sempre un po' di fianco. Le patate a lato. Patate, patate, patate. Fabrica sulle patate. Le miele per ultime quasi crue. Col miele. Per dare più forza al piatto, flammata a whisky glenbrandt. Vira. Occhio. Eccezionale. Ci torci molto clima, lui. Dulce. Miele. 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 Che non apro. Aperto. Il goccio di miele sul maiale e sulle miele. Voilà. Sale. Pepe per chi lo vuole, io lo metto. Semi di pinocchio. Sul maiale. Il piatto è pronto. Il maiale il filetto cuoce subito, se no diventa secco e non è buono. Il piatto. Patata. 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 Miele. Sugo di manente. Prometto di rosmarino. Buon Natale. Guardate. Piatto. Buon Natale a tutti.